...e più giovane di tutti. Ogni edizione è sempre più esplosivo. Io la settimana scorsa non l'ho vista, non so cosa farà, sono una sorpresa anche per me. Quindi, al vostro applauso, Lorenzo! Buonasera, professore, io sono i miei volontari. Ma non è che pure lei. Fatemi un applauso. Grazie. 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 Grazie.